nella scorsa lezione che potete ritrovare su questo canale youtube abbiamo parlato del metodo delle proiezioni o rotazioni successive si tratta di una delle tre tecniche utilizzate nel disegno tecnico per disegnare in proiezioni ortogonali un solido a spigolo che poggia con la base su un piano generico o più semplicemente un solido a spigolo tale da risultare inclinato con l'asse o con le sue facce a tutti e tre i piani di proiezione sempre nella scorsa lezione abbiamo visto come disegnare con questo metodo un solido a spigolo per esempio una piramide a base quadrata la cui base deve risultare inclinata di un certo angolo x rispetto al po e di un certo angolo y rispetto al pv in questa lezione ripartiamo da questo punto in modo da analizzare accuratamente il risultato ottenuto e in particolare le inclinazioni assunte dai vari elementi del solido cosa questa che si rivela molto importante per comprendere appieno come funziona il metodo la base del solido avendo ruotato sia rispetto al po che rispetto al pv appartiene ad esso ad un piano generico inclinato della quantità x rispetto al pio e della quantità y rispetto al pv piano che sarebbe stato impossibile disegnare a priori attraverso le sue tracce in quanto non siamo in grado di stabilire la vera inclinazione di un piano generico dalle sue proiezioni ortogonali se la base appartiene ad un piano generico l'asse appartiene ad una retta generica e perpendicolare al piano della base questa retta può appartenere a molti piani uno di questi è per esempio un piano proiettante in pio inclinato della quantità y rispetto al pv di tutti i piani possibili vale la pena di parlare in particolare di questo perché la sua inclinazione ha una corrispondenza precisa con le inclinazioni assunte dalla base del solido se ne conclude che attraverso le rotazioni della base possiamo anche determinare il piano proiettante in pio a cui dovrà appartenere l'asse giacché tra inclinazione della base e inclinazione del piano proiettante esiste una correlazione precisa quindi manovrando le inclinazioni della base possiamo riuscire ad attribuire precise inclinazioni anche all'asse sebbene il metodo delle proiezioni successive non si riveli la scelta più utile al suo posto è preferibile utilizzare il più versatile metodo del piano ausiliario che abbiamo già avuto modo di vedere nel precedente video di questo canale youtube resta però una domanda come cambierebbe il metodo delle proiezioni successive se il testo dell'esercizio richiedesse che l'asse del solido a rotazioni avvenute appartenesse ad un preciso e non casuale piano proiettante in pv anziché un preciso piano proiettante in pio a volte può succedere anche questo ed è bene essere preparati a tutte le evenienze questo esercizio potrebbe infatti capitare in sede d'esame la risposta a questa domanda si trova all'interno di dettagliate e chiare dispense che la illustrano per filo e per segno potete scaricarle a pagamento all'interno del mio sito il link alla pagina è presente anche in descrizione una volta entrati all'interno della pagina sarà sufficiente seguire le istruzioni riportate